Nel tardo pomeriggio di ieri sabato 9 marzo si è consumata una tragica vicenda sulla variante di Pianzano di Godega Sant'Urbano situata nella provincia di Treviso. Lungo la statale che si collega con l'innesto autostradale della 28 si è verificato un grave incidente stradale intorno alle 19.30 causando la morte di una ragazza di 19 anni e il ferimento di altre quattro persone. Le prime ricostruzioni indicano che si è verificato un violentissimo scontro tra due veicoli, una Suzuki Swift e un Maggiolone Volkswagen in prossimità di via Baver e via Calbassa al confine con San Fior nei pressi della bretella dell'autostrada Porto Gruaro-Conegliano. Una dalle vetture coinvolte si è ribaltata trasportando al suo interno tre giovani donne di cui una 19enne che ha perso la vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del suo M118, i carabinieri vigili del fuoco provenienti da Conegliano insieme ai volontari di Gaiarine. Questi ultimi con l'ausilio dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto con tempestività le giovani donne dall'auto ribaltata. Purtroppo nonostante gli sforzi del personale sanitario alla vita della ragazza di 19 anni non è stata salvata. Le altre due occupanti, entrambe 18 anni, sono state stabilizzate dai medici e trasferite nell'isoccorso all'ospedale di Conegliano, mentre un ragazzo di 17 anni è stato portato all'ospedale di Treviso. Anche gli occupanti del Maggiolone, madre e figlio, sono stati lievemente feriti e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico nella zona e al momento sono in corso i rilievi per determinare le cause di questo drammatico incidente stradale.